Quattro record mondiali per figli, si vedono! Un applauso! La senza più difficile! Spettacolo! Il podolo del Galopo Motion Flow Cortez, un evento organizzato da Sony, da Radio Italia, Sulla Musica Italia, e la mia! E la mia! E' un po' di gioco, è un po' di gioco Grazie a tutti 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 Grazie a tutti